Saranno sicuramente degli occhiali adatti, però possiamo riprenderlo dopo. Ci torniamo a Elisabeth Seitz, Germania, non dobbiamo neanche presentarlo. Stalder, Kaciov. Cambio di mani. Dorso e Jäger. Brava, molto pulita. Piantata Kaciov-Carpio. Tra l'altro abbiamo le francesi qui accanto che stanno tifando fortissimo per lei. Bellissima questa cosa. Piantata a ciapomezzo. Piantata con un giro, bravissima. E doppio raccolto, bravissima. Bravissima.